L'analisi di settore dei concorrenti fornisce elementi fondamentali all'attività di business planning poiché permette di verificare con dati reali le ipotesi su cui viene costruito il piano, rivela cosa stanno facendo i concorrenti e quali sono i loro risultati. Il business Benlinus supporta l'analista finanziario con un database con i bilanci e l'analisi di milioni di imprese, funzionalità avanzate di ricerca e profilazione delle imprese, possibilità di analizzare gruppi di imprese e cluster definiti dall'utente, funzionalità avanzate di benchmarking. Grazie per la visione!